Ma ha scritto un papà, il quale ha quel problema che hanno molti papà, e cioè obbligo o non obbligo mia figlia a venire a messa con me? Perché alla mamma non interessa particolarmente e abbiamo deciso di lasciarla libera. Sgominiamo subito una questione, si può essere liberi soltanto davanti a una questione, se io tolgo la questione non sono libero perché non c'è più la questione. L'atto di libertà si dà sempre di fronte a qualche cosa, quindi quando io scelgo di non scegliere, ho scelto di non scegliere, ma non ho scelto quella cosa invece di un'altra. Quindi non posso ottenere un giudizio sul mio essere cristiano se non faccio il cristiano, ho scelto di non essere cristiano, non ho scelto un giudizio sul cristianesimo se non sono cristiano. Ma rimaniamo più su una questione molto più casalinga. Allora io chiedo a quel papà che mi ha fatto la domanda di guardare il resto del video con questa tua figlia, cioè io non voglio parlare a te che sei papà e che sei adulto separatamente da lei, proviamo a parlarne tutte e tre insieme. Ok? Prendiamoci un caffè. Carissima, carissimi, credo che ci sia un problema di comunicazione. Il papà ha un grande desiderio per te e tu hai un grande desiderio di libertà. Il desiderio del papà è che tu faccia un cammino di fede, che è quel cammino di fede che per lui e per la sua vita è estremamente importante, cioè è come una persona che è estremamente appassionata, che ne so, di montagna e vorrebbe portare in cima alle montagne tutte le persone che conosce, perché sa che da lì si gode un panorama meraviglioso e che dentro in quella fatica c'è un premio che altrimenti non si può ricevere. Questo mi pare di capire sia il tuo papà. Dall'altra parte ci sei tu, carissima. E ti dico carissima perché nella tua posizione ci sono tantissimi altri che sono preziosi come te. E nella fase della vita c'è addirittura un fenomeno psicologico che ce lo spiegano proprio gli studiosi e che è quello di negare i propri genitori per affermare se stessi. Come a dire adesso sono arrivato io nel mondo, io ho capito tutto, i miei non capiscono niente, ok? Questo però è una cosa che capita a tutti nell'adolescenza, poi l'adolescenza più o meno ha un'età, adesso più avanti, più indietro non mi interessa, però è un meccanismo che c'è dentro di noi. Per cui i miei genitori non capiscono niente io capisco tutto, io ho già capito tutto, io ho già deciso. Mi ricordo quella volta che quel ragazzo di 14 anni mi disse che Dio non esiste. Come faccia tu a 14 anni aver deciso questa cosa è molto interessante, ma io ti dico non aver paura, è una fase, è una fase. Come si evolverà la questione? Ti accorgerai ben presto, c'è una bellissima canzone di Guccini anche che lo dice, ti accorgerai ben presto che assomigli a tuo padre molto di più di quello che pensi, cioè dovrai attraversare tutte le cose che lui sta attraversando adesso e le dovrai attraversare e quindi tutto ciò che tu oggi non capisci lo capirai e lo attraverserai. Io ti faccio una domanda, visto che c'è lì vicino il tuo papà. Tuo padre ti vuole bene? Immagino che ti voglia molto bene. Addirittura da un frammento io capisco che ti vuole bene e cioè che si è preso la briga di scrivermi per dirmi Don, questa cosa mi sta a cuore, cosa devo fare? Quindi tuo padre ti vuole bene e tuo padre non ha tutte le soluzioni e questa è una cosa meravigliosa. È un uomo umile e quindi la prima roba che puoi già mettere lì, carissima, di guardarlo e di dire sei una bella persona. Grazie papà. Secondo, il bene non è TVTB, i cuoricini, i like, quelle cose lì. Il bene i nostri genitori ce lo comunicano attraverso cose estremamente concrete, dal farci trovare la biancheria pulita nei cassetti, al pensare al meglio per noi, a pagarci la scuola, a venire incontro a ogni nostro desiderio. Il bene si dà sempre in cose molto concrete. Quindi se papà ti consiglia di continuare il tuo cammino di fede, nel quale lui è stato presente dal giorno del battesimo che ha chiesto per te, alla prima comunione, alla cresima, eccetera, continuando ad andare a messa, vuol dire che in questo gesto che lui ti consiglia c'è dentro il suo bene, esattamente, esattamente come le altre cose buone che ti consiglia. Metti il casco quando vai in moto, non ti ammazzare. Allora io penso che devi fare una considerazione. Se quando tu chiedi una cosa a tuo padre e lui te la concede, tipo papà voglio stare fuori a dormire da casa della mia amica che c'è la festa e tuo padre te la concede, tu dici mio padre mi vuole bene e lo capisci forse di più di quando tuo padre ti nega delle cose e dici ah grazie papone a queste cose qua. Quindi c'è un'altra considerazione da fare. Ad esempio quando tu dici papà io voglio stare fuori a dormire dalla mia amica tuo padre ti dice il bene fidandosi di te. Certamente non ti mette una microcamera nella montatura degli occhiali per vedere e controllare che cosa fai. Si fida, si fida della tua libertà, si fida persino della possibilità che tu possa fare degli errori ma che in questi errori tu possa non farti troppo male. Certamente lui starà alzato ad aspettarti, certamente lui sarà preoccupato, certamente ecco e tu lì misuri il bene ma tu mentre misuri il bene prova a misurare anche la fiducia. Papà si fida di te. Ora io ti domando perché quando tuo padre ti dice di andare a messa tu non ti fidi di lui? Fatela questa domanda. Cioè nell'offerta che lui ti sta facendo perché tu parti prevenuta pensando che questa cosa non sia un bene? Allora io vorrei darti quattro consigli, quattro indicazioni di metodo, ecco perché poi io non è che voglio convincerti a niente, però in modo tale che tu su questi quattro punti tu possa ragionarci. Ecco. Allora il primo è proprio un consiglio spassionato. Quando vai a messa, e qui lo dico a te intanto che sei vicino al tuo papà, lo dico a tutti gli adolescenti, non cercare di capire tutto. Cioè a volte abbiamo un approccio alla fede che è un po' scolastico, no? È un po' come andare al cinema, per cui se mi suscita delle emozioni, delle sensazioni, allora sì, no? Infatti saltano fuori quelle cose. Ah ma quel prete è simpatico. Ah no, quelli lì facevano i canti belli, eccetera. Non cercare di capire tutto e non cercare di sentire tutto come fossero delle emozioni vaghe, perché l'operazione che il Signore compie durante la messa nel tuo cuore lo capisci molto tempo dopo. E quindi il tentare di capire tutto sarebbe come se tutto potesse stare nella tua testa. Di sentire tutto, tutto potrebbe stare nel tuo cuore. No, non è così. Molte cose le capirai molto più avanti e tante cose le sentirai e sentirai il beneficio quando queste hanno già agito. Un po' come quando viene piantato un seme nella terra che sembra che non succeda niente e poi tutto un tratto germoglia, ma era da tempo che sottoterra germogliava e lavorava. Il secondo, quando vai a messa impara la bellezza. La messa è un luogo dove più che tutto deve essere custodita la bellezza. La bellezza di che cosa? A volte è la bellezza anche delle liturgie, cioè a volte in certe parrocchie la liturgia viene curata molto bene e questo aiuta a percepire la bellezza. Poi c'è qualcuno che si innamora della liturgia più di Gesù Cristo, ma questa è povera gente. La bellezza delle cose che vengono insegnate, cioè la bellezza di un amore universale. La bellezza di un perdono universale che può raggiungere tutti. La bellezza di una fraternità possibile che ci viene insegnata. La bellezza di un'accoglienza delle persone peggiori. La bellezza di un mondo possibile. Il regno di Dio, che è questo ideale meraviglioso, dove tutto funziona, dove l'amore c'è, dove l'amore non tradisce, dove l'amore è pagato con il sangue, che viene sulla terra. Che diventa possibile anche per te, anche per me, per tutti quanti. Quindi il punto numero due è di percepire questa bellezza. Nel messaggio evangelico in particolare questo salta fuori fortissimo. Gesù invita tutti a un banchetto, a un pranzo, a una cena, a un posto dove si sta bene tra amici. E l'amicizia è una delle cose che ad esempio tu cerchi più di ogni altra cosa. Terzo, le imperfezioni. Pensa, tu adesso stai crescendo e ti accorgi che tuo padre non è un uomo perfetto. Ha tante qualità, ma ha anche i peccati. E anche la sua vita, per quanto, io non lo conosco tuo papà, ma lo posso immaginare perché penso al mio, penso ai papà di tanti, ai tanti papà, guardo a me stesso, è fatta di tante imperfezioni. È fatta anche di cose che sono andate male, di cose che si sono sbagliate. Ma dentro tutte queste imperfezioni c'è un papà che continua a camminare nella speranza verso quella bellezza. Quindi non è un montanaro che camminando in montagna non si ferma mai, non cade mai, è sempre tonico. No, è uno che suda, è uno che fatica, è uno che inciampa, ma continua a procedere verso quella vetta dove vuole portarti. Ecco, quando tuo padre ti invita a celebrare l'eucaristia con lui, pensa a queste imperfezioni che sono anche due. Quando guardi lui, scopri che sei anche tu così. Sei quella persona che camminando sul sentiero della vita, anche se di sentiero in fondo ne ha fatto ancora poco, però dentro in quel sentiero già ci sono stati degli errori, ci sono stati dei fallimenti, ci sono stati dei momenti di tristezza, ci sono delle cose che non si capiscono, però anche tu stai procedendo verso quella bellezza. E quindi dentro questa imperfezioni c'è un camminare insieme. Io e papà su questa strada possiamo camminare insieme, si chiama la strada della vita. E lì, nel momento della messa, tutto questo ci appare più evidente. Io e lui stiamo camminando insieme. Quarto punto. Papà va e fa la comunione, sapendo che quella comunione non se l'è meritata, perché appunto non è un uomo perfetto. Quella comunione gli è regalata da un Dio che vuole bene a tuo padre, proprio come tu potresti volergli bene, come tu potresti perdonargli, ma molto 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 di più. A quel punto anche tu vai a fare la comunione e lì succede una cosa meravigliosa. Che mentre tuo padre è in comunione con Dio, mentre tu sei in comunione con Dio, ti trovi in comunione con Lui. Questo è quello che succede. Uscendo da messa, tu e lui non siete più due estranei, ma siete in comunione con Dio, con il mistero stesso della vita che vi unisce. Gesù non ha tentato di convincere nessuno e io non voglio convincere te, però ti invito a guardare tuo padre e a pensarci seriamente. Grazie di questo caffè insieme, grazie della pazienza, grazie di questi 13 minuti passati insieme e restiamo in comunione, perché anch'io tutti i giorni faccio la comunione. Quindi c'è qualche cosa che ci unisce molto di più di quello che pensiamo. Buona giornata. Ciao. Ciao.